Il ruolo del portiere è il ruolo più pazzo che si possa essere, perché non devi avere paura di andare su ogni palla. Noi in Briantea facciamo tantissime cose, giochiamo il campionato di FGC, giochiamo un campionato CSI A5, andiamo a fare un torneo di Ginevra, che ormai siamo giunti alla quarantesima edizione. Il bello di Ginevra è che siamo un gruppo che si va su per divertirci, che si fa il pranzo tutti insieme, la colazione e poi la sera ci divertiamo tutti. Io ho iniziato a 30 anni, nei vari anni che sono passati ho seguito un progetto, ho iniziato anche a fare un percorso alla nostra famiglia di Bosisio, come aiutante della Scuola Calcio. La Scuola Calcio è un progetto che nasce con Briantea in collaborazione con il gruppo della nostra famiglia di Bosisio Parini. Adesso che sono nello staff ho capito che non è facile fare delle scelte, grazie a persone competenti riusciamo a fare tutte queste cose. componenti dello staff, gli allenatori, i volontari, che senza di loro non possiamo fare queste cose qua. In questi anni ho imparato a muovermi da solo e sono diventato esperto del sistema di trasporti, la roba qui alla fine si fa diventare più grande. Grazie. 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 Grazie a tutti.